Ho incontrato gli imprenditori, ricordando che quello che la Lega diceva era passato per populismo, oggi è realtà ed è buonsenso. La direttiva sulle banche era sbagliata, l'austerità imposta dell'Europa era sbagliata, l'immigrazione si poteva fermare. Ho dato a tutti appuntamento all'anno prossimo con la Lega al Governo e i primi risultati della Lega al Governo. Chi ha vinto la gara fra lei e Di Maio per conquistare il voto dei banchieri? Non so, giudicatelo voi che eravate fuori. Sì, a me interessa parlare a 60 milioni di italiani, rappresentati in piccola parte da chi è qua, ma in massima parte da chi è fuori di qua. Sono contento dell'accoglienza, dell'interesse e dei numeri di telefono scambiati con chi era qua, ricordando che il 95% delle imprese italiane ha meno di 10 dipendenti e siamo fondati sull'artigianato, sul commercio, sulla piccola impresa e non solo sui grandi, per fortuna dico io. Posso uscire? Posso uscire? Grazie. Con Di Maio c'è dialogo o no? Ah, se vuole parlare io parlo con tutti. Ragazzi, posso chiedervi la cortesia?